Buongiorno, buon lunedì mattina, inizia la nuova settimana all'insegna dell'informazione come sempre l'appuntamento con la rassegna stampa e con i giornali come inizio di settimana naturalmente siamo qui come tutte le mattine, questa edizione naturalmente del lunedì ha una fogliazione minore rispetto agli altri giorni perché i giornali lunedì mattina sono in formazione ridotta, ma procediamo con ordine, guardiamo prima il santo del giorno e poi le previsioni del tempo oggi è San Giovanni Battista De Rossi, sacerdote, il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.35, lunedì 23 di maggio guardiamo le previsioni del tempo per oggi, insomma almeno sulla cartina il cielo è poco parzialmente nuvoloso cielo nuvoloso nella seconda parte della giornata, quindi insomma nella seconda parte della giornata ci sarà un peggioramento anche le piogge fanno la loro comparsa nelle ore centrali della giornata anche a carattere di rovescio o di temporali le temperature sono stazionarie, vediamo domani martedì, migliora leggermente il tempo, il cielo sarà parzialmente nuvoloso probabile attenuazione della nuvolosità nella seconda parte della giornata e anche insomma le piogge a carattere di piovaschi quindi insomma in forma minore rispetto ad oggi nella prima parte della giornata le temperature sono in aumento, aumenteranno le temperature, vediamo le tendenze per i giorni successivi quindi per il prosieguo della settimana, probabile tempo stabile per il resto della settimana con temperatura in graduale aumento e quindi insomma il tempo nel proseguo della settimana andrà tendenzialmente sul bello tanti avvenimenti in questo fine settimana in provincia però insomma su tutti c'è stato purtroppo un incidente mortale quindi che ha funestato il weekend, apriamo subito la pagina dell'inserto locale del resto del Carlino che mette appunto in evidenza questo tragico incidente, è avvenuto in superstrada vicino all'uscita di Sant'Ippolito tamponamento in superstrada dove perde la vita un bimbo di Fossombrone che viaggiava con la mamma, aveva tre anni poi un altro incidente, un frontale a Canavaccio, siamo verso Urbino, un 24enne ricoverato in condizioni critiche dopo uno scontro sabato sera vediamo la pagina del resto del Carlino di Pesaro è stato inaugurata una pista ciclabile anche se le polemiche per le panchine non si attenuano Ricci inaugura una pista ciclabile e dice appunto vi ricordate com'era prima? Taglio del nastro in Viale della Repubblica il cantiere è ancora aperto e questa è la foto appunto dell'inaugurazione un cittadino puntiglioso però dice manifestazione interrotta ma la panchina qui a fianco come la vedete, com'è ridotta insomma quindi questo è l'occhiello appunto nell'articolo le panchine rimangono insomma un centro dell'attenzione dopo vedremo anche nelle pagine del messaggero purtroppo gli stupidi e gli imbrattatori sono sempre in azione dalla pagina che riguarda Pesaro e provincia provincia e gemelli siamo a Fano giochi agguerriti Fano si confronta con la gemellata Rastad Rastad ai Twin Games e insomma finisce Italia-Germania 4-3 come la mitica partita degli anni 70 e poi l'iniziativa riuscitissima del Galà dei Commercianti tantissimi coupon questa sera a teatro si proclamano i vincitori dopo due mesi si è conclusa l'iniziativa a colpi appunto di coupon raccolti pensate 17.000 tagliandi quindi questa sera serata conclusiva serata finale le pagine dello sport ve le faccio vedere dopo apriamo il Corriere Adriatico la pagina di Pesaro appunto riporta anche questa l'apertura della pista ciclabile zero polemiche aspettate che sia finito questo è il messaggio del sindaco che inaugura la ciclabile in Viale della Repubblica un totem tra approvazione e ironia e poi città europea dello sport città europea dello sport a Pesaro il rebus impianti natatori ha affidato l'incarico all'associazione Pindaro Sport per 15.000 euro coordinerà la promozione poi vediamo in fondo alla pagina l'assessore Ceccarelli conferma la scelta e anticipa un'intitolazione anche a Sandra Mondaini una vita dedicata ad Anna Maria Anna Maria Curina appunto ritornata alle cronache questa vicenda per l'arresto del suo assassino latitante da due anni che è stato assicurato alla giustizia si attende naturalmente l'estradizione la pagina di Fano del Corriere Adriatico riporta lo schianto in superstrada bimbo muore a tre anni tamponamento in superstrada il piccolo era in auto l'autocondotta dalla mamma rimasta gravemente ferita vedete nelle foto del Corriere Adriatico proprio i momenti gli istanti drammatici del soccorso e come si sono ridotte le automobili l'incidente è accaduto all'altezza del restringimento di corsia causato dai lavori lungo l'arteria per oltre due ore il traffico è rimasto paralizzato sul posto naturalmente è intervenuta la polizia stradale una giornata anche di dispensieratezze e di gioia perché è passato da da Via Le Gramsci a Fano i giochi e i bambini invadono le strade una città da sogno automobili vietate i bambini coinvolti nel loro modo di essere così giocoso e gioioso per quanto riguardava sport ecologia ambiente insomma c'era veramente tanta tanta gente in Via Le Gramsci e poi Al Kodma andava in scena l'ultima giornata di Fanogeo con il volo dei rapaci gli antichi mestieri gli animali insomma c'è stata c'è stata occasione per passare un buon weekend siamo a Senigallia come sempre vi faccio vedere anche la pagina di Senigallia musica caldo la movida si accende quindi prove generali di estate oltre 2000 ragazzi per la festa del Mamma Mia eventi DJ set dal vivo locali presi d'assalto insomma qui anche tutto una calendarizzazione di tutti gli eventi che riguarderanno la città di Senigallia andiamo nelle pagine delle messaggero vi faccio vedere la pagina di Pesaro che porta come fotonotizia la MotoGP che ha regalato insomma una delusione per gli appassionati i tifosi di Valentino Rossi perché rompe il motore e quindi finisce in fumo il suo sogno e poi anche qui tragedia in superstrada amore bimbo di tre anni e poi la fiction di Lucia al Chuck al primo Chuck e vediamo nell'interno l'articolo che vi citavo prima riguardo delle panchine e vedete già subito in azione gli imbrattatori qui in questa foto vedete questa è una panchina nuova di pacca e subito ci hanno scritto qualche cosa non avendo di meglio da fare o altri supporti su cui scrivere le loro cose panchine pop imbrattate dai vandali e i selfie continuano anche ieri una sorta di pellegrinaggio alla palla di Pomodoro per vedere la nuova piazza il conte Pinoli tour dell'orrore Salomonico è abbastanza chiaro il suo commento tra oggi e domani l'inaugurazione quindi insomma tengono banco in maniera in maniera alterna come pareri le panchine vi dicevo appunto prima c'è stata insomma la citazione della sfortunata skipper Curina perché verrà intitolato una strada e questo è l'episodio che lo ha riportato a galla questo questo tragico avvenimento De Cristoforo il sogno di ricchezza di libertà in questa pagina del messaggero ripercorso un po' tutta la sua la sua vicenda l'assassino di Anna Maria Curina in isolamento e in attesa appunto l'estradizione fra un paio di settimane come data di nascita nel passaporto falso che ha mostrato vedete qui ritratto nella foto ha riportato ve lo faccio vedere qui appunto la data del 22 aprile il giorno in cui era cominciata la sua latitanza insomma questo è Palazzo Bracci Pagani siamo a Fano donato alla cultura inaugurato il nuovo sistema museale anche nell'occasione una mostra dedicata al maestro toscano Vangi se potete andatela a vedere perché è veramente molto molto bella le opere del maestro saranno in mostra lì a Palazzo Bracci Pagani fino al 21 di agosto vi faccio vedere le pagine dedicate allo sport naturalmente il Fano batte anche il lupo serie D finale playoff Alma Juventus Fano 3 campo basso 2 e sono proprio i Molisani Granata a fare la differenza Borrelli offre un assist e firma il gol sia il resto del Carlino che il Corriere Adriatico dedicano due ampie pagine a questa a questa vittoria dell'Alma e Gabellini alla fine urla dice grandi il padron annuncia se tutto va bene sarà ripescaggio Favo 30 secondi però polemici vi faccio vedere come ha titolato e cosa hanno scritto i colleghi del Corriere Adriatico il Fano vince e può sognare la Lega Pro Campobasso battuto al Mancini nell'ultima sfida stagionale assegno Gucci Sivilla e Borrelli insomma la triade che ha contrassegnato questa stagione l'Alma finisce la gara in 10 per l'infortunio di Torta con 6 under ma i molisani segnano solo il gol del 3 a 2 Nodari commosso e Gucci commenta è stato bellissimo l'altra pagina parla appunto del commento di Gabellini che dice il ripescaggio se non è d'oro ne possiamo parlare perché i ripescaggi poi costano come abbiamo visto anche in passato bene questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere per questa la segna stampa del lunedì grazie per essere stati con noi naturalmente un saluto anche a tutti coloro che ci seguono in replica questa sera sempre occhio alla notizia alle 20.30 puntualmente il telegiornale di Fano TV benissimo grazie buon inizio di settimana e buon proseguo di giornata a tutti voi a tutti unch CHAZ